C'è un racconto nella narrativa italiana che Eugenio Montale definì un racconto perfetto scrivendone con entusiasmo sul Corriere della Sira. Anche Giorgio Bassani ne fu ammirato insieme ad altri scrittori e critici. Lo scrisse un autore che nacque cento anni fa nel 1920 ed ebbe vita brevissima, morì nel 52 a 32 anni, stroncato dalla leucemia. Scrisse poche cose, pochi racconti, un abbozzo di romanzo e soprattutto questo racconto definito perfetto da Eugenio Montale intitolato Casa d'Altri. L'autore si chiamava Enzo Comparoni, emiliano ma si firmava con pseudonimi vari, lo pseudonimo più usato è Silvio Darzo, così lo si ricorda. Dunque il libro è di Silvio Darzo, appunto Casa d'Altri, edito da Einaudi. Il racconto è presto detto nella sintesi della trama che sembra essere molto labile. Siamo in un paesino sperduto sulla montagna emiliana, nell'Appennino, quasi fuori dal mondo, anzi letteralmente fuori dal mondo, aspro in un inverno rigido, poche case di pietra, poche persone, molte capre. C'è il parroco, un vecchio prete che fu anche forte teologicamente, ebbe da giovane molta foga e speranza, adesso è un po' ammaccato, un po' stanco, un po' disilluso dalla vita. E c'è una vecchia povera, una lavandaia che ogni mattina va al fiume, nel torrente lì di montagna a lavare panni per altri, nell'acqua gelida, e cerca di parlare con il prete, lo spia da lontano, vuole ma non vuole, il prete se ne accorge, c'è come questa danza di silenzio fra il prete che sa che la vecchia gli vuole parlare e lei che non osa poi oserà, gli chiederà qualcosa. Lascio al lettore di delibare il prosieguo del racconto. Importante dire che è una storia scarna, scritta con una prosa semplicissima e al tempo stesso intensa. C'è in questa narrativa moltissima forza lirica, sembra che un poeta si sia messo a scrivere un racconto. C'è per esempio la narrazione pittorica che spesso ritorna dei colori di questo paese, di questa vallata di dirupi e di case di pietra. Una citazione sola. L'aria fuori viola e viola i sentieri e le erbe dei pascoli e i calanchi e le creste dei monti. C'è quassù una certa ora. I calanchi si fanno color ruggine vecchia e poi viola e poi blu. Le capre si affacciano agli usci con degli occhi che sembrano i nostri. E non c'è sole, né luna, nel cielo. Sembra una poesia la prosa di Silvio Darzo con questo racconto stupefacente che lascia aperto anche un mistero, una incomunicabilità, un silenzio abitato dalla voglia di dire cose che si strozzano in gola. Il grande enigma della vita. Casa d'altri di Silvio Darzo, uno scrittore che visse pochissimo, scrisse pochissime cose importanti che hanno lasciato il segno.